Sarà attivo da mercoledì 13 giugno il Centro di Ascolto Valore Donna contro la violenza fisica e psicologica subita dalle donne, il mobbing sul lavoro e le pressioni in famiglia, che si avvarrà della consulenza di un legale e di una psicologa. L'iniziativa è della CNA dell'Aquila. Oltre alla casistica post-sisma, il progetto della CNA è molto più ampio ed è volto a supportare le vittime di violenza in un percorso riabilitativo per reinserimento nel mondo del lavoro. È previsto anche un secondo passaggio nel progetto poi, che coinvolgerà anche gli istituti superiori dell'Aquila. Un progetto fortemente voluto dal direttore della CNA dell'Aquila Agostino del Re. Nel centro di ascolto ci saranno l'avvocato e psicologa Alessandra Lopardi e la psicologa Enrica Strippoli, che è anche l'operatrice dello sportello mobbing del San Salvatore. Un centro di ascolto molto importante, del resto la casistica che riguarda le donne, violenze psicologiche e quant'altro, soprattutto in famiglia, è di molto aumentata. Per questo, questo supporto sarà davvero importante a sostegno delle donne in città.